adottarono una politica legalitaria disarmando i lavoratori, chiedendogli di non reagire alle provocazioni e di affidarsi alle forze dell'ordine. Forze dell'ordine che però erano chiaramente in combutta con le forze fasciste. Il cliché che si ripeteva un po' dappertutto, come per esempio alla Camera del Lavoro di Milano, alle sede dei giornali, eccetera, è che arrivava una squadraccia, faceva il suo assalto, devastava e dopo che se n'era andato arrivavano i carabinieri a impedire che la sede fosse ripresa dai socialisti con la scusa di mantenere l'ordine pubblico. Si arrivò in Italia anche all'infame patto di pacificazione tra il Partito Socialista e Mussolini che non serve altro se non a Mussolini di accumulare ancora più forze per poi rompere questo patto e schiacciare definitivamente il movimento operaio. Anche in Germania la socialdemocrazia adottò una politica simile mentre il Partito Comunista ebbe una politica che isolò i propri militanti e vedeva come principale nemico non i nazisti ma la socialdemocrazia e anche in questo caso i lavoratori si ritrovarono disorganizzati, disarmati, anche disarmati politicamente e impotenti di fronte all'ascesa del nazismo che ricordiamolo arrivò al potere come si vantava Hitler senza aver dovuto neanche rompere un vetro. E invece i tre episodi di cui discutiamo oggi ci dimostrano che quando la classe operaia si è mobilitata ha sconfitto anche sonoramente i fascisti. Primo episodio di cui discutiamo oggi è Parma nel 1922. Come ho detto prima in quegli anni c'era l'ascesa di queste forze fasciste che essenzialmente erano delle squadracce di picchiatori e di teppisti e malgrado la politica ufficiale dei capi della sinistra, dei capi del Partito Socialista e del sindacato in diverse zone si erano formate dei gruppi per resistere a queste violenze. La più famosa sicuramente è quella degli Arditi del Popolo ma c'erano anche altre formazioni locale formate magari da lavoratori che pochi anni prima avevano fatto parte delle Guardie Rosse a Torino e a Genova principalmente. Rispetto a queste formazioni e rispetto soprattutto agli Arditi del Popolo il Partito Socialista ne prese nettamente le distanze mentre il Partito Comunista d'Italia che in quegli anni aveva ancora una politica abbastanza settaria rifiutò di aderire, anche di collaborare con gli Arditi del Popolo e mise su delle proprie formazioni quindi dei gruppi composti solo da membri del partito. Parma era una situazione abbastanza particolare perché lì era forte la sinistra, era forte il movimento operaio ma il Partito Socialista non aveva un grosso controllo non aveva un apparato così radicato che potesse controllare i suoi militanti, la sua periferia o in generale la sinistra in città. Per cui i lavoratori di Parma anche quelli iscritti al Partito Socialista misero su delle forze, delle formazioni unitarie con una collaborazione tra comunisti, socialisti e anarchici contro i fascisti. Quindi in pratica si formò un fronte unico. Il fronte unico era una tattica proposta dall'internazionale comunista secondo la quale i rivoluzionari, i comunisti dovevano offrire un patto d'azione alle organizzazioni riformiste anche se avevano rotto con queste da pochi anni comunque avevano fatto delle scissioni comunque in base a questa tattica dovevano offrirgli un patto d'azione su delle questioni concrete come per esempio la lotta contro la disoccupazione contro il carovita e per l'appunto contro il fascismo. La tattica del fronte unico non era stata accettata da molti partiti comunisti in Europa che erano nati proprio dalla repulsione per il tradimento dei riformisti e quindi non capivano la necessità di questa tattica nei confronti dei partiti riformisti. E questi giovani partiti comunisti si fermavano diciamo con una politica estremista alla denuncia per smascherare i misfatti dei partiti socialisti. Questa era un po' anche la politica del Partito Comunista d'Italia in quegli anni ma come ho detto prima a Parma ciò non avvenne e nella pratica venne messo su un fronte unico e questo fronte unico si armò a partire dai lavoratori a partire dagli operai sindacalizzati a partire dai giovani politicizzati socialisti comunisti e anarchici ma ebbe un seguito di massa e riuscì anche a far entrare nelle sue formazioni armate anche reduci della Prima Guerra Mondiale. Quindi questa è la dimostrazione di come in quegli anni con una politica corretta sarebbe stato possibile ridurre fortemente tutte le basi d'appoggio che il fascismo aveva. Il fascismo aveva delle basi d'appoggio soprattutto tra la piccola borghesia rovinata e anche tra settori dei reduci e di ex combattenti. A Parma invece abbiamo visto che questi reduci ed ex combattenti invece che passare nel campo del fascismo si schierarono con l'antifascismo e quindi dietro all'egemonia del movimento operaio della classe lavoratrice. Il 22 agosto a inizio agosto del 22 a Parma arrivarono 15.000 fascisti da tutta da tutto il nord Italia capeggiati da Italo Balbo e attaccarono la città. Trovarono una resistenza che non si aspettavano trovarono in particolare che nella zona dell'oltre torrente cioè diciamo i quartieri operai e quartieri più popolari erano state erette delle barricate i lavoratori le difendevano armi alla mano e dopo cinque giorni di attacchi e di combattimenti alla fine Italo Balbo e le sue squadracce si dovettero ritirare abbandonando l'idea di poter marciare su Parma un altro esempio di cui discutiamo oggi come accennato prima è la battaglia forse meno nota in Italia è la battaglia di Cable Street a Londra anche in Inghilterra anche in Gran Bretagna dopo la crisi con la crisi del 29 e 33 ci fu l'emersione di un movimento fascista che erano appunto le squadracce fasciste di Oswald Mosley la B.U.F la British Union of Fascists che al suo apice contava circa 40.000 membri erano sostenuti dalla vittoria del fascismo in Italia in Germania ed in Austria ed erano finanziati generosamente dalle grandi imprese e dal grande capitale oltre a questo avevano anche il sostegno di alcuni dei più importanti giornali britannici come il Daily Mail Living News e il Sunday Dispatch e avevano cose importanti avevano anche il sostegno di simpatizzanti aristocratici e conservatori ossia anche all'interno del partito di maggioranza del del governo del partito al governo il i capitalisti britannici vedevano nella B.U.F. una forza militante ed extra parlamentare con la quale attaccare il movimento operaio non era la loro opzione principale perché in quel momento ancora diciamo il governo aveva una forte maggioranza il capitalismo britannico ancora aveva dei margini di manovra comunque vista la possibilità di un esagerbarsi della crisi capitalistica e quindi anche dei conflitti sociali e quindi anche delle lotte operaie i capitalisti britannici vedevano nella B.U.F. una carta una seconda carta da potersi giocare successivamente la B.U.F. passò all'offensiva nel periodo tra il 34 e il 36 passò all'offensiva significa molto concretamente che iniziarono una campagna di pestaggi e di aggressioni sotto la protezione più o meno palese della polizia di fronte a questo e visto che cosa era appena successo in Germania in tutto il paese la classe operaia si mobilitò contro la minaccia dei fascisti e comizi fascisti vennero impediti interrotti dispersi a Glasgow a Stockton e a Wharton quindi in delle località minori secondarie anche se questi eventi in giro per il paese stavano facendo capire che si stava andando verso uno scontro decisivo tra i fascisti e la classe operaia e dal canto suo la BOF visto che la crisi del 29 da un punto di vista economico cominciava ad essere passata la BOF spostò la sua attenzione da le zone ad alta disoccupazione dove aveva puntato in un primo momento si spostò verso quelle a forte presenza ebraica e in particolare venne scelta una zona di Londra l'East London dove cominciò una campagna antisemita e con questa i fascisti volevano crearsi una base nella classe operaia in particolare tra i portuali di origine irlandese tuttavia questa campagna in realtà non ebbe successo neanche tra i portuali perché proprio i portuali irlandesi molti di loro si ricordavano ancora dello sciopero avvenuto una ventina di anni prima il grande sciopero dei portuali del 1912 che durò parecchie settimane per cui in quelle settimane i portuali non percepivano stipendio le loro famiglie erano senza di che mangiare e molti bambini delle molti figli molti bambini delle famiglie dei portuali vennero accolti da famiglie ebree che appunto gli diedero una casa e gli sfamarono e quindi questa campagna antisemita da un punto di vista propagandistico non ebbe molto successo tuttavia cominciò da parte della BUF una campagna di provocazioni e soprattutto di terrore quindi con attentati ai negozi ebrei con attacchi e aggressioni in piena strada a lavoratori e a immigrati e al culmene di questa campagna la BUF annunciò che il 4 ottobre intendeva marciare proprio attraverso gli stand per finire con un comizio al Victoria Park con quella che doveva essere una dimostrazione di forza nelle loro intenzioni e una provocazione contro la popolazione ebraica della zona da subito partì una massiccia campagna di firme per chiedere di vietare la marcia vennero raccolte più di centomila firme ma il governo rifiutò di vietare la marcia dei fascisti e al contrario nella pratica il governo aiutò i fascisti in ogni modo possibile circa 10.000 poliziotti vennero chiamati da tutta Londra per permettere lo svolgimento di questa marcia oltre alla raccolta firme oltre alla raccolta firme gli operai che come abbiamo visto non non ebbe non ebbe successo viceversa però gli operai iniziarono iniziarono immediatamente a organizzare la resistenza contro la provocazione dei fascisti invito anche chi si è appena adesso collegato a chiudere l'audio o finisce l'acqua 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 bene d'accordo allora riprendiamo da dove c'eravamo sono i nuovi arrivati che devo ogni volta chiuderli vai bene allora dicevo gli operai iniziarono immediatamente a organizzare una resistenza contro la marcia e negli stand nonostante la politica stalinista degli anni precedenti i membri locali del partito comunista di Gran Bretagna ebbero un ruolo importante nella costruzione della resistenza antifascista e vennero svolti vennero svolti oltre un centinaio di comizi in tutta Londra e vennero attaccati migliaia di manifesti distribuiti centinaia di migliaia di volantini quindi contrariamente a quello che aveva fatto il partito comunista tedesco pochi anni prima che aveva attaccato la socialdemocrazia come principale nemico invece dei nazisti nell'e stand i membri del partito comunista in effetti in pratica misero su un fronte unico e quindi misero in pratica la parola d'ordine di Trotsky di un fronte unico contro i fascisti vennero contattate le sezioni sindacali diverse categorie di sindacati dei lavoratori e le sezioni locali del partito laborista per chiedere a queste di partecipare i capi del partito laborista esortavano invece i membri a rimanere a casa e a lasciar fare alla polizia ma malgrado questo l'appoggio della base laborista a questa iniziativa fu massiccio anche i giornali tradizionali ebraici come il Jewish Chronicle raccomandavano a tutti gli ebrei di stare a casa e di non essere coinvolti in degli scontri che parole loro avrebbero aiutato l'antisemitismo in realtà anche questo consiglio in larga parte per fortuna non venne seguito il partito comunista di Gran Bretagna diciamo la direzione cittadina e nazionale non non seguiva quello che era la linea la mobilitazione intrapresa dalle cellule di base degli stand e infatti proprio per quel giorno aveva per il 4 ottobre aveva un'altra iniziativa che era un raduno antifascista in sostegno della Spagna repubblicana a Trafalgar Square dopodiché la pressione degli iscritti e della sua base fu così forte che dovettero cambiare i piani e su tutti i volantini e i manifesti dove si dava appuntamento a Trafalgar Square vennero sovrastampate venne sovrastampato il nuovo appuntamento in cui si diceva di vedersi a Algate alle 2 del pomeriggio il 3 ottobre cioè il giorno prima della marcia dei fascisti sul Daily Worker venne pubblicata una mappa dettagliata in modo da far capire agli antifascisti dove andare a che ora come riunirsi e sotto questa mappa c'era scritto i fascisti vogliono riunirsi in Royal Main Street ammassarsi in decine di migliaia in Lehman Street Gardner's Corner e St. George Street andate lì alle 2 del pomeriggio vennero quindi fatti dei piani meticolosi per tutta la giornata vennero organizzati dei depositi per il pronto soccorso con bende e medicinali e venne accumulato del materiale per poter mettere su delle barricate la mattina del 4 ottobre più di 300.000 persone si erano radunate per bloccare la marcia dei fascisti fra queste c'erano i giovani del partito laborista c'erano i membri del partito comunista c'erano i membri del partito laborista indipendente c'erano i troschisti i portuali irlandesi e i giovani ebrei in pratica tutta la classe lavoratrice britannica era rappresentata in quello che era un vero e proprio fronte unico dall'altra parte come detto prima 10.000 poliziotti arrivarono da tutta Londra questi il loro compito era quello di disperdere la contramanifestazione e garantire che i fascisti potessero svolgere la loro marcia i fascisti erano 7.000 arrivati da tutto il paese e la marcia non poter neanche iniziare perché come detto prima si trovarono di fronte questa marea umana enorme di 300.000 persone la polizia caricò più e più volte in modo abbastanza pesante ma non riuscì a disperdere la folla oltretutto un tramviere che passava per commercial road quindi all'incrocio con la via dove doveva iniziare la marcia un tramviere ovviamente antifascista arrivato all'incrocio scese e lasciò lì piantato il suo tram in mezzo alla strada poco dopo altri tramvieri fecero lo stesso per cui la via era bloccata da una serie di tram che neanche la polizia ovviamente poteva spostare quindi questo blocco tramviario diciamo più la marea umana fece che la polizia dovette abbandonare l'idea di utilizzare il percorso iniziale e tentò di utilizzare come alternativa proprio Cable Street per far svolgere la marcia fascista dopodiché i lavoratori gli antifascisti questo se lo aspettavano ed infatti erano pronti quando la polizia iniziò a muoversi lungo quella strada furono costruite delle barricate venne messo di traverso un camion pezzi di vecchi mobili e di tutto quello che era possibile e la via venne bloccata quando la polizia caricò queste barricate venne letteralmente bombardata dalle dalle case vicine gli venne lanciato di tutto da parte delle famiglie operaie in particolare delle donne che lanciavano vasi di fiori tegole e immancabile in Inghilterra bottiglie del latte e questo ci fa vedere ci torneremo anche dopo come la battaglia di Cable Street fu una battaglia che aveva un appoggio praticamente totale della popolazione anche chi non era in piazza e stava in casa appoggiava e aiutava gli antifascisti con questo lancio di oggetti vista la parata i fascisti si ricomposero come piace a loro in formazione militare solo che fecero dietro fronte e se ne andarono in direzione opposta rispetto a dove volevano e la marcia non ebbe mai luogo questa fu una vittoria importante in Inghilterra perché causò una seria demoralizzazione dei fascisti ricordiamoci che i fascisti basano molto la loro propaganda sul concetto della forza della virilità eccetera eccetera dopodiché nel momento in cui vengono sconfitti tutte le chiacchiere sulla forza e sull'invincibilità si vede si vedono per quello che sono ovvero solamente delle chiacchiere dall'altra parte questa vittoria galvanizzò molto la classe operaia e va detto che grazie alla vittoria a Cable Street che nella testa di Mosley doveva essere l'analogo della marcia su Roma di Mussolini grazie alla vittoria di Cable Street i fascisti non furono mai più una minaccia in Gran Bretagna e furono relegati a un ruolo veramente neanche di secondo ma di terzo o quarto piano l'ultimo episodio di cui vi parlerò oggi sono i moti le giornate di Genova nel 60 rispetto a questo facciamo un piccolo passo prima e vediamo come che verso la fine degli anni 50 in Italia iniziò una parziale ripresa delle lotte operaie in diverse zone e in diversi settori con scioperi mobilitazioni e così via la borghesia come al solito si divise sulla strada da intraprendere di fronte alla ripresa delle lotte operaie le alternative le alternative erano due o quella che noi oggi chiameremo la concertazione ovvero il coinvolgimento dei capi del movimento operaio oppure la repressione pure semplice in quel momento la borghesia italiana optò per la seconda opzione e questo portò alla formazione del governo tambroni il governo tambroni era un governo composto da soli ministri della democrazia cristiana che però aveva anche l'appoggio dei parlamentari dell'MSI era quindi la prima volta che l'MSI svolgeva un ruolo di primo piano e anzi stava in una maggioranza di governo era la prima volta dalla caduta del fascismo va detto che però l'apparato statale malgrado la resistenza malgrado appunto gli eroici sforzi dei partigiani l'apparato statale in essenza era lo stesso dei tempi di Mussolini 62 prefetti su 64 e 120 questori su 135 erano in quel momento ex funzionari fascisti nella stessa Genova proprio nel mese di giugno il questore Ingrassia venne sostituito da Giuseppe Lutri che era famoso per la sua caccia ai partigiani che fece a Torino durante la dittatura fascista quindi al di là del non solo per l'appoggio dell'MSI al governo in quel momento inizia un vero e proprio periodo di repressione in Italia che porterà poi ai fatti di Genova questo periodo di repressione forse è meno noto però abbastanza significativo e questi esempi che vi farò ci faranno capire il clima che c'era e che stava montando a fine aprile la questura di Genova scusate la questura di Ferrara mandò la polizia nelle case dei sindacalisti per impedirgli di organizzare uno sciopero a maggio la corte costituzionale affermò che la serrata padronale ovvero quando i padroni come contromossa contro uno sciopero lasciano fuori i lavoratori e non li pagano la corte costituzionale affermò che la serrata padronale era uno strumento legittimo legalmente legittimo e per finire il 21 maggio a Bologna un affollato comizio antifascista promosso dal PC venne caricato a freddo dalla polizia dopo tutto ciò il movimento sociale italiano annunciò che voleva tenere il suo congresso nazionale a Genova dal 2 al 4 luglio quindi una chiara provocazione che era quella di voler riunire i reduci del fascismo nella città medaglia d'oro per la resistenza oltre a questo fu annunciata anche la presenza di Basile Basile era l'ultimo prefetto di Genova durante la Repubblica di Salò ed era il responsabile degli editti del marzo 1944 che erano degli editti che erano stati fatti contro lo sciopero bianco e le altre proteste operaie e a questi fece seguire la deportazione di diverse centinaia di lavoratori genovesi nei campi di lavoro della Germania nazista a Genova appunto come nel resto d'Italia in particolare nel nord Italia c'era il boom economico però malgrado questo negli ultimi anni continuavano le lotte operaie prima fra tutte quella dell'ansaldo San Giorgio quindi a Genova diciamo che c'era un certo tessuto operaio di mobilitazione e di attivisti e dopo l'annuncio di questo congresso dell'MSI cominciò una mobilitazione quasi permanente il 6 giugno su iniziativa del partito socialista tutti i partiti di sinistra stamparono un manifesto in cui denunciavano il congresso missino come una grave provocazione il 13 giugno la camera del lavoro fece una richiesta ufficiale al governo di non far svolgere il congresso due giorni dopo il 15 giugno una manifestazione di 20.000 persone si svolse contro lo svolgimento del congresso e si scontrò con alcuni neofascisti il 24 giugno un comizio indetto dalla camera del lavoro fu vietato dalla questura e il giorno dopo ci fu quindi il 25 giugno ci fu un nuovo corteo organizzato dalle federazioni giovanili dei partiti di sinistra a cui aderirono anche i portuali e alla fine di questo corteo vi furono nuovamente scontri con la polizia durante quel corteo si decise di indire un comizio per il 2 luglio nel frattempo da parte sua l'MSI il Movimento Sociale Italiano all'inizio ebbe qualche indecisione alcuni anche fra i capi a più alto livello ebbero paura di quello che stava succedendo però alla fine annunciarono che loro avrebbero tenuto comunque il loro congresso e che avrebbero portato almeno un centinaio di attivisti romani parole loro scelti tra i più pronti a menare le mani a Genova il 28 giugno ci fu un'ulteriore manifestazione con 30.000 persone e il giorno dopo la Camera del Lavoro indisse uno sciopero provinciale uno sciopero generale per il 30 con un corteo nel pomeriggio l'UIL alla CGL ovviamente aderì la UIL si oppose alla manifestazione mentre la CISL lasciò ai propri iscritti libertà di scelta e lo sciopero del 30 giugno fu uno sciopero totale si bloccò l'intera provincia e al corteo parteciparono più di 100.000 persone che per una città come Genova capite che è una cifra enorme alla fine alla fine di questo corteo la polizia caricò cominciarono gli scontri in piazza dei Ferrari che rapidamente si allargarono fino ai carruggi anche per chi le conosce insomma i vicoli del porto del centro storico di Genova e anche qui come avevamo visto prima a Cable Street la polizia lanciava dalle finestre vasi e pietre sui poliziotti gli scioperanti alzarono barricate disarmarono i cellerini e furono incendiate parecchie camionette in pratica la città era in mano ai manifestanti questa cosa non la diciamo solo noi ma è dimostrata anche dal bilancio finale della giornata con 162 poliziotti feriti solo 40 tra gli scioperanti e nessuno arrestato quindi la città era in mano ai manifestanti e per riportare l'ordine ci provò dovette intervenire anche l'AMPI ma con poco successo alla fine la calma tornò solo quando la CGL annunciò la convocazione dello sciopero generale per il 2 luglio ovvero per il giorno in cui si sarebbe dovuto sarebbe dovuto iniziare il congresso quindi grazie al fatto che i dirigenti del PC e della CGL riportarono l'ordine e la calma le forze dello Stato ebbero tempo per prepararsi per il 2 luglio altri 7000 poliziotti e carabinieri arrivarono a Genova con l'ordine di essere pronti a sparare la zona intorno al teatro Margherita dove si doveva tenere il congresso venne recintata con filo spinato e barricate varie nella notte però nella notte fra il primo e il 2 luglio anche i lavoratori genovesi si prepararono un gruppo occupò la stazione e cacciò i primi fascisti che arrivavano per il congresso una colonna con alla testa 20 trattori si avviò verso la città dalla provincia con appunto questi 20 trattori che dovevano servire per sfondare le recensioni vicino al teatro nei quartieri del porto si preparavano centinaia di bombe Molotov mentre nella periferia industriale gli ex partigiani ricomposero le vecchie formazioni e recuperarono quelle armi che erano state nascoste alla fine della guerra si calcola che 500.000 persone erano pronte a scendere in piazza quindi il governo si rese conto che la situazione poteva diventare fuori controllo innescando una rivolta in tutto il paese visto che il primo luglio c'erano già stati scontri anche in altre città come per esempio a Torino e alle 6 del mattino del 2 luglio revocò il permesso all'MSI dopo aver avuto garanzia dai capi della sinistra che questi avrebbero mantenuto l'ordine questo accordo responsabile però non impedì al governo di bastonare gli antifascisti a Roma a Porta San Paolo il 6 luglio di fare un morto a Licata il 5 luglio e 5 morti a Reggio Emilia il 7 luglio la situazione era comunque così tesa che il presidente del senato Merzagora dovette proporre una tregua di 15 giorni in cui la polizia da una parte restava chiusa nelle caserme e dall'altra parte la sinistra si impegnava a non fare scioperi o cortei quindi la borghesia aveva capito che in quel momento non conveniva usare la repressione ed era meglio passare all'altra opzione così il 19 luglio cadde il governo Tambroni e venne sostituito da Fanfani che preparerà la strada per il primo governo di centro-sinistra quindi con il partito socialista in Italia ho preso molto tempo e quindi concludo con il fatto che queste storie ci dimostrano che non è con i progetti di legge le interpellanze parlamentari gli appelli alle forze dell'ordine che si fermano i fascisti questo è impossibile per la natura stessa dello stato capitalista perché il fascismo non è altro che un'arma dei padroni che a volte viene usata altre volte viene tenuta da parte oggi per la fortissima riduzione della tradizionale base sociale del fascismo che era la piccola borghesia significa che nella società odierna non è più possibile il ritorno del fascismo quindi un movimento con una base di migliaia di picchiatori ma questo non significa che piccoli gruppi di fascisti non possano diventare una minaccia fisica per gli iscritti al sindacato per gli attivisti studenteschi per i membri di minoranze o altro questo in Italia l'abbiamo visto molte volte a Cable Street e a Parma abbiamo visto quanto la politica del fronte unico sia stata efficace contro i fascisti nella pratica anche i moti di Genova ci dimostrano come la forza della classe operaia sia per numero che per le forme di lotta che può mettere in campo come lo sciopero generale per esempio può essere l'unica forza che può sconfiggere i fascisti per fare questo però deve essere organizzata e questo è importante ma altrettanto importante deve essere armata di un programma politico contro il fascismo e in ultima analisi è solo con la completa distruzione del capitalismo che ha bisogno del fascismo e che lo alimenta e la sostituzione con un sistema governato dai lavoratori che ci garantirà la sconfitta finale e per sempre del fascismo grazie a tutti